Ma guarda, Prodi ha perfettamente ragione, non c'è uno straccio di idea, è una campagna dove tutti parlano, diceva Alessandra, ognuno parla il suo pezzetto. Io parlerei proprio, sai, ognuno è, c'è la trappola delle identità, cioè in questo momento ognuno si preoccupa di parlare semplicemente alla propria tribuna, non ci sono visioni politiche, sono un po' di manifesti valoriali, ognuno parla alla loro tv e nessuno ha lo sguardo largo del paese. Abbiamo parlato della tribù di Giorgia Meloni fino adesso, anche Ellis Line fa una scelta tribale nel chiamare una piazza il giorno della festa della Repubblica, che per un partito della sinistra è un qualcosa che non si è mai visto. Nel momento in cui lei accusa gli altri di non accettare il 25 aprile e di seguire logiche di parte, trasforma la festa di tutti, in cui la sinistra ha avuto un ruolo storico, in un momento di parte anche quello, quello è il giorno di Mattarella, ma di che stiamo parlando? Aspetta, e dimenticando che il 2 giugno, un po' di 2 giugno fa, nel 2020 ci fu la manifestazione con la destra in piazza, il 2 giugno senza mascherine. La sinistra, quella che nella storia della Repubblica ha avuto un'idea di responsabilità nazionale, di interesse nazionale, che è il partito del capo dello Stato, delle cose, non può andare in piazza di giugno. Quindi c'ha ragione, i Prodi non stanno letteralmente dicendo niente. Chi rischia di più, diciamo, tra Conte e Lashlein, Conte ha elezioni difficilissime, perché non sono il suo le europee, anche in termini di radicamento territoriale, eccetera, però ha un partito personale, quindi comunque gli vada, resta lui, diciamo, sostanzialmente. Lo vedo molto in difficoltà in queste elezioni. Lashlein, è evidente che c'è tutto un movimento nel PD che guarda al dopo, la commissariamo, quanto prende, quanto non prende, eccetera. Io temo però che si sta... Però lì siamo dalle parti, diciamo, delle abitudini consolidate. Il segretario appena viene eletto, pensiamo a come fare per mandarlo via. Io temo che si sta sopravvalutando un po' troppo l'appuntamento, che sia se prende il 20, sia il 22, eccetera, è un'illusione ottica, ma se non ci metti una strategia politica, se non ci metti un E, non risolve letteralmente niente. E però sicuramente...